Meta privilegiata del turismo termale, le terme di Telese sono l'eccellenza in Campania per il termalismo. Le acque minerali hanno una tradizione antichissima. Infatti, le sorgenti sulfure comparvero dopo il catastrofico terremoto, che nel 1349 distrusse interamente l'intero abitato e provocò la fuoriuscita delle acque sulfuree. Per le numerose qualità terapeutiche riconosciute dal mondo scientifico e la vasta gamma di patologie curabili, l'acqua di Telese risulta essere oggi tra le acque termali di più largo utilizzo terapeutico a livello europeo. È un'acqua ipotermale, nasce intorno ai 20 gradi. Questo ci permette di effettuare e realizzare delle cure veramente importanti, per esempio sull'apparato dermatologico e sull'apparato cardiovascolare. Grazie alle proprietà terapeutiche dell'acqua, noi possiamo utilizzare quest'acqua sull'apparato respiratorio, per esempio. Le bronchiti croniche, le riniti, le sinusiti, l'acqua di Telese con le cure inalatorie, la ventilazione polmonare, è utilissima in queste patologie. Altrettanto è utile sull'apparato otorino-laringoiatrico. I reparti di cura, le sorgenti termali e le due piscine scoperte sono immerse in un ampio parco di alberi secolari tra i più estesi d'Italia. In un complesso separato, situato presso il Grand Hotel Telese, si trova un centro benessere termale, dotato, oltre che di reparti termali, di piscina riabilitativa coperta e riscaldata, attrezzature per la terapia fisica e riabilitativa e di un centro di fotobalneoterapia per la cura della psoriasi e altre malattie dermatologiche. Telese, uno stabilimento termale di grandissimo riferimento per il termalismo italiano, ha attivo questo centro di fotobalneoterapia dove insieme alle lampade che vengono utilizzate dai dermatologi noi aggiungiamo i benefici dell'acqua sulfurea carbonica che permette, lo zolfo sulla pelle ha l'effetto del peeling naturale, quindi l'effetto cheratolitico, l'effetto cheratoplastico, quello che ci permette di alleviare i sintomi e i segni della psoriasi. Un altro target importante dell'acqua di Telese è rappresentato dall'apparato osteoarticolare. L'acqua di Telese proprio perché è ricca di elementi, di elementi importanti e è utilissima per preparare i fanghi. Ecco perché il fango è utile nella cura dell'artrosi, ma come diciamo noi medici delle terme, è utilissimo anche nella riabilitazione sicuramente di patologie a osseoarticolari, ma soprattutto nella prevenzione. Anche nelle persone che non sono ancora, sono meno giovani, ma sono ancora giovani, la fangoterapia è un'utile terapia preventiva per evitare la degenerazione osteoarticolare. Il Parco delle Terme Centrali, situato in Piazza Minieria a Telese Terme, è completato da alcune strutture ricreative, tra cui un bar, un ristorante, un parco giochi per bambini, lo stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua Marchio Telese, sale multifunzionali per meeting di ogni tipo e un centro congressi di circa 500 posti.